Nella mattinata di ieri, primo giorno dell'anno, sopra il luogo del sindaco di Pescara Carlo Mascio e del vicepresidente di Confcommarcio Riccardo Padovano, a bordo del peschereccio nonno Remo I, per prendere visione della situazione ritenuta ormai insostenibile della vasca ricolmata al porto canale. Nei giorni scorsi il provveditorato alle opere pubbliche, che entro il 31 dicembre avrebbe dovuto provvedere allo svuotamento della vasca contenente il materiale dragato, ha fatto sapere di aver annullato la gara per la rimozione dei fanghi, dichiarando di dover ripetere da capo la procedura. Un dietrofronto mal digerito dal sindaco Mascio e dalle associazioni di categoria per una serie di ragioni. Intanto l'immagine della città, segnata da oltre sei anni dal degrado più assoluto in uno dei punti di accesso, quello dal mare, è in teoria tre più suggestivi. Al contrario, per chi arriva a Pescara dal mare l'accoglienza, rappresentata da ben 200.000 metri cubi di fanghi. Altro aspetto, non meno preoccupante, è il rischio concreto che ora quel materiale potrebbe essere classificato come rifiuto speciale, facendogli evitare di non poco i costi per il suo smaltimento. Col fango, avvertito Masci, deve andare via assolutamente prima che inizi la nuova stagione estiva. Con il provveditorato c'è ormai un'aria triba aperta da tempo. Sono sei anni che c'è quello scandalo insopportabile per la nostra città. Con questo sopralluogo, ha affermato Masci, vogliamo testimoniare il nostro disagio. Il provveditorato deve muoversi e farà ripartire il bando velocemente. Se questo è stato sbagliato come sembra, lo rifaccia in tempi rapidi. Pescara non può sopportare dopo sei anni questa situazione, altrimenti percorreremo tutte le vie possibili e immaginabili, però a far intervenire chiunque possa in qualche modo eliminare questo scandalo che dura ormai da troppo tempo, che danneggia la città. Non voglio essere il sindaco che fa il funerale al porto di Pescara. Manifesta un certo pessimismo il vicepresidente di Confcommercio Padovano, che parla di porto bloccato. Davanti alla darsena commerciale non possiamo avviare interventi di dragaggio, ha detto Padovano, proprio per la presenza di questo materiale nella vasca. La città non può organizzare nemmeno una gita con una nave a causa dei fondali troppo bassi. La città non può organizzare nemmeno una gita con una nave